Nel mondo della comunicazione via internet i giovani si trovano a proprio agio e allora ecco pronta una piazza virtuale che permetterà loro di esprimersi anche nella costruzione dei contenuti e agli enti locali di segnalare eventi e iniziative che li riguardano. Il sito è una cosa innovativa, è una cosa giovane e dinamica. Abbiamo cercato di fare una cosa semplice per mettere in rete tutte le attività giovanili presenti in provincia e i servizi che la provincia di Treviso offre a noi giovani. All'interno del sito avremo anche un forum dove noi giovani potremo andare a discutere e a parlare di argomenti vari. Il primo a fare da testimonial è il presidente della provincia Leonardo Muraro che compare nel video iniziale del sito giovani-dimarca.it. Non bastasse questo, per i più creativi c'è anche un concorso, anzi un vero festival dei valori e dei talenti in cui i giovani trevisiani potranno esprimersi con un video, con fumetti, foto o grafica e con linguaggi multimediali. In questo concorso vogliamo mettere, come dicevo, in evidenza la creatività ma soprattutto dare la possibilità ai giovani nostri di crearsi un futuro. Infatti come premio abbiamo sì delle attrezzature ma abbiamo soprattutto uno stage all'interno di aziende trevigiane che permetteranno a questi giovani di crearsi anche un futuro. Il tema scelto per la prima edizione è il chiaro e l'oscuro, ovvero ciò che va bene e ciò che va male. L'opportunità che abbiamo noi giovani è di segnalare all'amministrazione provinciale gli aspetti che ci piacciono o non ci piacciono della provincia così da creare uno stimolo per i nostri amministratori e chi ci rappresenta per lavorare al meglio nel nostro territorio. Il concorso è aperto ai giovani dai 18 ai 30 anni, le iscrizioni sono aperte fino a metà giugno. Bando e informazioni ovviamente sul sito giovani-dimarca.it.